No parolacci, ma non mi mettere su tweet, ma nessuno sa chi sei, gli hai dato dello sconosciuto proprio, no è che non scriviamo chi siamo, sanno di me, sanno di me, di chi sei, io sono su Facebook Fabrizio Palgunadas Lucchini e denuncio sempre tutti qua, cosa fai? Allora denuncio in primis, qui mi beccherò una denuncia a livello internazionale, il sionismo ebraico, qui stiamo arriverando a casa altro che l'Equitalia, la bomba sotto la macchina diventerà, sì sì, sì, soltanto che ci rimettono perché costa più l'esplosivo che la macchina che la macchina tua cosa? vai ricordi, scrivi te l'avevo scritta l'altra volta? sì, ma sì, soltanto che come tu non te li ricordi oggi, direttamente proporzionale è il rapporto che ho io con i fogli e gli appunti quindi devi scriverli no, al pianoforte del mio minore la minore sì questo è sempre in streaming diretto, al mondo ciao mondo ciao mondo io sono il mondo, ti saluto Fabrizio ciao mondo sono orgoglioso di te quindi saresti la dea Bumi Bumi è la terra ah, tu lo dici, tu lo sai sì, sì, Bumi è la terra Bumi, bene, io sono Bumi sono la dea terra sei un'emanazione della dea Bumi Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 la cambia Krishna Krishna Hare Hare la minore allora cosa facciamo mai sui soli fate una cosa carina, per favore, per il mondo per la dea del mondo dai facciamo una cosa aspetta che filmo l'araba fenice eccola che sta scrivendo le parole allora l'araba felice felice giusto sol col si al basso perché è già rinata dalle ceneri la minore è rinata perché se sta bianco di sole perché è bianco latte c'è bisogno di un'umidificazione è color cenere è color cenere sol col si al basso una specchiettina ti prego la minore e fa basta scusami siamo tutti pendenti dalle tue dita mica per me, per lui ho capito ma li potrei aver scritti no? allora gli facciamo sì, magari i testi non me li ricordano ma perché non l'hai portato? un pezzo per lo streaming lo facciamo un pezzo per lo streaming stiamo per favore per fare un pezzo per il mondo per la dea per la dea per la dea Bumi allora siamo qui per la dea Bumi che ti sta guardando fai un pezzettino per la dea Bumi no, così mi viene da piangere mi viene da piangere allora dai facciamo aspetta, facciamo un pezzo per lo streaming dai, non facciamo aspettare il pubblico per favore ci stiamo portando un pezzo per lo streaming che ti che ti che ti che ti ti che ti tu 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti